In casa rignanese c'è una certezza a livello temporale per la domanda di ripescaggio in Serie D esistono ancora diverse settimane di tempo, probabilmente fino ad agosto, quando si avranno anche le sicurezze delle escluse del palcoscenico nazionale e fino ad allora non si avranno novità. Tra l'altro, però, a proposito di news, queste riguardano l'assetto tecnico. L'incontro tra il direttore sportivo Manganelli e Marco Coppio ha portato ad un aggiornamento tra i due senza la conferma di permanenza del trainer sulla panchina, mentre il calciomercato parla di due nesti importanti come Lori Spagnotta che dopo un'annata non certo esaltante a Figline è invece esploso con 14 centri personali a Campi Visenzio salvando quasi da solo l'aranciotto. L'altro arrivo è Simone Perugi, jolly abituato a giocare sia in mediana che come esterno basso. Se dunque, come appare possibile, si separeranno le strade di Coppio e Rignanese in attesa di conoscere un nuovo allenatore bianco-verde la società si sta tutelando quale che possa essere poi il palcoscenico che la vedrà protagonista nel prossimo anno.